Ben trovati, ben trovate in questo secondo appuntamento della nostra rubrica Sentieri d'Amore. In questa rubrica noi ci occupiamo della psicologia del noi, parliamo di coppia, dei rapporti di coppia. Abbiamo iniziato la scorsa volta con il video in cui abbiamo visto i 10 più 1, quindi gli 11 motivi per cui si tradisce in coppia, perché avviene un tradimento. Cerchiamo di approfondire questo argomento e oggi approfondiremo i primi due motivi. Se non hai visto il video con gli 11 motivi, trovi il link in descrizione, ti consiglio di vederlo così. Prima hai una carrellata generale, un'idea generale, una visione di insieme su tutti i motivi per cui si tradisce in coppia e poi possiamo approfondire come faremo tutti quelli che abbiamo visto. Partiamo dal primo motivo, problemi di coppia. Allora, quando si parla di problemi di coppia, molto spesso si pensa a problemi pratici, si pensa a problemi economici, problemi di salute. Quelli ci sono anche, però come ben sappiamo, e come ho visto nella mia esperienza di questi anni, lavorando con tante tante coppie, quando una coppia è unita, quando si preserva il noi, quando c'è ancora il dialogo, quando c'è uno scambio emotivo, quando c'è una vita emotiva ricca, la coppia sa affrontare i problemi pratici. Se ci sono problemi economici, si affrontano. Se ci sono problemi di salute, ci si supporta vicendevolmente. Allora, quali sono in realtà questi problemi di coppia? Beh, per problemi di coppia intendiamo sostanzialmente, soprattutto, i problemi che riguardano appunto la vita emotiva e la vita sessuale. Chiariamo bene, per vita emotiva intendiamo lo scambio emotivo, la connessione emotiva, il sentire che percepisco le emozioni del mio partner e lui, lei percepisce le mie e che insieme siamo sempre in grado di creare delle emozioni positive. Cioè abbiamo dei momenti di gioia, dei momenti di ilarità, di risata, di divertimento. Abbiamo dei momenti in cui stiamo bene per il fatto di stare insieme, di condividere una passeggiata, un film, una qualsiasi esperienza, un viaggio. Sappiamo ricreare insieme delle emozioni positive. Quando la risposta è no, iniziano i veri problemi di coppia e questi possono portare alla ricerca di queste emozioni positive da parte di uno o dell'altro in altre relazioni. Secondo motivo, abbiamo visto, sono è quello della vendetta o punizione. Allora, vendetta o punizione significa proprio non riuscire a comunicare al partner che si è feriti per qualcosa, e ora faremo degli esempi, e in qualche modo volerlo punire. A volte si punisce in coppia anche per cercare di attrarre l'attenzione, per cercare di svegliare il partner da un torpore, per cercare di gridare aiuto. So che può sembrare strano, ma anche il tradimento può essere un grido d'aiuto, in una modalità, certo, che l'altro non apprezza di solito e che è molto dolorosa, però può essere anche quello. Altre volte invece è proprio la voglia, inconsapevole, inconscia, di ferire l'altro, per fargli provare quello che proviamo noi. Siccome mi hai ferito, ti ferisco. Vi faccio degli esempi, delle due modalità. Allora, abbiamo visto problemi di coppia e vendetta. Facciamo un esempio del primo, problemi di coppia. Non c'è più vita emotiva e non c'è più vita sessuale. Quindi per sesso intendiamo due, per contatto, non per sesso intendiamo due categorie nella coppia. Una sono le coccole. La prima categoria è quella delle coccole, che è proprio lo stare insieme, il contatto fisico, l'abbraccio, la carezza, a volte anche il guardarsi negli occhi e sorridere. Quel contatto che non presuppone un rapporto sessuale, ma che è molto, molto importante per mantenere la vicinanza della coppia. Quando una coppia inizia ad allontanarsi fisicamente e quindi non ha più né momenti di intimità fisica come le coccole, non si sta più abbracciati a guardare un film, ma separati, nettamente distanti sul divano, non si sta più abbracciati nel letto, ma assolutamente separati, e non si ha nemmeno una vita sessuale regolare e soddisfacente, a quel punto si ha uno dei problemi di coppia. L'esempio, mi ricordo una coppia, Marco e Chiara, ancora li ricordo, chiamiamoli Marco e Chiara, in cui Chiara proprio lamentava il fatto che prima stavano sempre insieme. Ora invece dice, raccontava proprio questo, diceva, ora a pranzo cuciniamo, ma non cuciniamo insieme. Proprio siamo nella stessa stanza, ma il massimo del dialogo è scusami, spostati, aspetta parecchio io, quindi non c'è più uno sguardo, un contatto. Seduti a tavola si parla solo del più, del meno di quello che si farà la coppia azienda, no? Si parla allora esco io, a che ora vengo a prenderti, cosa facciano stasera, i bambini chi li va a prendere, si organizza, però a tavola non c'è più una risata, diceva, non c'è più uno scambio. Vedete, qui è la vita emotiva che manca. Poi diceva, a letto siamo sostanzialmente separati. Lui con l'iPad, io con un libro, ognuno ha il proprio posto del letto e non c'è più vicinanza. Mi diceva proprio, è come se si fosse creato un muro. E non parlava di vita sessuale, ma parlava proprio della mancanza di contatto fisico, di intimità, di vicinanza fisica. Mi ha aggiunto anche, lo ricordo, le uniche volte in cui ci percepiamo emotivamente sono i litigi, che sono sempre più frequenti. E anche questo è importante. Seguiamo tutto il filo del discorso. A volte, quando c'è una povertà emotiva, l'unico modo che si ha per darsi emozioni a vicenda, per risvegliare un po' la coppia, è la rabbia, il litigio, il conflitto, lo scontro. Diventa l'unica modalità, però è una modalità ovviamente logorante. Quindi vita emotiva, allontanamento, è di solito unica modalità per risvegliare emozioni, emozioni negative come rabbia, paura e tristezza. Vediamo ora l'altro esempio, invece, rabbia o punizione. Rabbia o punizione, ecco, questo mi fa ricordare invece un'altra coppia, chiamiamoli Giacinta e Gian Gilberto, che lamentava invece una... non era una punizione per un tradimento, può essere... vendetta o punizione può essere per un tradimento ricevuto. Questa è la prima cosa che ci viene in mente, ma non è solo quello. In questo caso, diciamo che lui, la prima cosa che ha notato è che lei, per due anni di seguito, ha dimenticato l'anniversario. E l'anniversario è un simbolo, attenzione. In effetti, dimenticare l'anniversario, se ci pensiamo, è qualcosa che rompe un po' un equilibrio, perché l'anniversario è il simbolo dell'unione, come tanti altri simboli. Lui lo ha notato, però per tutti e due gli anni non ha fatto niente, ha portato tranquillamente dei fiori a lei e ha fatto finta di niente. In più ha notato che c'erano dei messaggi, messaggi whatsapp, se ricordo bene, che lei non leggeva per ore e a volte leggeva ma non rispondeva. Poi tranquillamente diceva, scusa l'ho dimenticato, poi non ricordo più altre dimenticanze. Lui parlava di sentirsi assolutamente, negli ultimi due anni si era sentito escluso dalla sua vita. Parlava, ecco ora mi ricordo, di sguardi di disapprovazione anche quando facevano la spesa. Mi è venuto ora quest'altro esempio che faceva. Quando lui stava là, prendeva delle cose, gli sguardi come la mamma col bambino, dai. Ed erano gli unici sguardi, diceva, che riceveva. Ecco, per queste dimenticanze, per questa mancanza di comunicazione, per questi messaggi a cui non aveva risposta, lui ha accumulato rabbia e davanti a me proprio ha detto, ora mi rendo conto, ci siamo arrivati a questo, che in qualche modo volevo fartela pagare. Quello che ho fatto notare a lui in quel caso è che non ne aveva parlato con lei e sostanzialmente aveva solo accumulato per poi restituire il favore con un tradimento. In quel caso era stata una scappatella da quello che lui diceva, molto fugace, non una relazione, però era un segnale con cui voleva rompere quell'equilibrio, voleva dire mi hai fatto male e io voglio la tua attenzione. In questo caso, per dirvela tutta, siamo riusciti a recuperare il rapporto di coppia con una serie di interventi che loro hanno fatto, che li ho aiutati a fare. E lei ha capito che erano un bivio, cioè che lei stava trascurando, non lui, la coppia, perché non si trascura mai la persona, si trascura un rapporto, una relazione, stava trascurando la coppia e ha capito che quel gesto era un gesto forte, punitivo, ma era anche un grido d'aiuto, era anche un mi stai perdendo, che vogliamo fare? E si sono trovati a discutere sul che vogliamo fare, abbiamo iniziato a parlare di ok, tu hai ricevuto tutte queste cose e hai reagito e ti sei vendicata. Attenzione che tu però non hai parlato con lei, non hai mai mostrato i tuoi bisogni, ma hai aspettato di accumulare e vendicarti, ora sei da un punto di decisione. O vi separate o cercate un nuovo equilibrio. Loro hanno scelto un nuovo equilibrio, poi ovviamente di fronte al tradimento non si sa mai quello che una coppia sceglie, ma non dico sempre, ma spesso c'è una scelta possibile, una scelta da fare. Ok, quindi in questo video abbiamo visto i primi due motivi per cui si tradisce, nel prossimo video vedremo il terzo e il quarto. Quindi non mi resta che salutarvi e settimana prossima ci sarà la continuazione con il terzo, approfondiremo il terzo e il quarto motivo. Ci vediamo la prossima volta. Se non siete iscritti al canale e vi interessano questi temi, iscrivetevi, attivate la campanella per essere aggiornati. Se volete seguite su Facebook e su Instagram. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.